buon pomeriggio buon pomeriggio buonasera salvatore tu dovevi fare sempre il primo dove sei non lavorare troppo che mo non puoi sei in quarantena pure tu salvatore vediamo chi arriva nel frattempo mettiamo il timer se lo facciamo mattina un pomeriggio salvatore hai fatto il primo sicuramente però sei arrivato in ritardo pure tu ho preparato già qualcosa perché guarda salvatore lo vedi allora ciao fabrizio giovan battista roberto daniele fabrizio raffaele zizzi rillo penso che sia nuovo da pia nicola ciao a tutti ragazzi salve a tutti no il timer si il timer guarda qua guarda che bello stai me libero francese ciao veronica salvatore aspettiamo giorgio ragazzi perché giorgio mi ha chiesto di infatti ho messo come titolo autolisi idrolisi si nuovo perfetto ciao silvio siamo che arriva giorgio così non dobbiamo e facciamo il ripieno non la sfogliatella la parte esterna il ripieno perché qualcuno di voi al gruppo mi ha detto se potevamo spiegare il ripieno delle sfogliatelle ma falda mi sembra proprio non mi ricordo chi era forse lina mi sembra aspettiamo giorgio si arriva altrimenti poi si vede la differita ciao giuseppe maurizio luca prima volta in live grazie luca gruppo avvisato perfetto stanno arrivando salvatore ciao carmine tanto noi cinque minuti aspettiamo sempre quindi abbiamo tempo per aspettare che giorgio venga sapete l'avviso a giorgio dai che sta questa cosa la stiamo facendo soprattutto per lui che me l'avevo chiesto ciao rocco paolo no pasquale scusatemi anzi ho sviluppato il corso di sopravvivenza per la quarantena brava è una buona idea mettilo nel nel gruppo whatsapp al corso e che corso devi fare come aggiustare le stampanti è una grande idea ciao alfonso se lo metti poi tanto comunque dai delle informazioni non tutti saranno poi in grado di sfruttarle germano ciao germano grazie rocco allora un minuto ancora e poi partiamo avvisate a giorgio per favore ciao simone a mentre fai la final conad ma come dispiace maurizio che sei in bilan conad sono andato ieri mattina a comprare un po di cose ciao maria teresa stefano allora vediamo un po nel frattempo io cerco qualcosa qua perfetto togliamo l'audio ok ciao ciaica paolo luca mi raccomando i like perfetto ciao francesco cerchiamo di sciogliere questo dubbio del autolisi e idrolisi una volta per sempre in modo che se vedete nel gruppo io ve l'ho messo i miei appunti ve li ho vi ho messo un pdf vabbè ve l'ho fatto la foto e l'ho messa nel nel gruppo in modo che possiate darci un'occhiata e capire che effettivamente l'autolisi è una cosa e l'idrolisi è un'altra cosa spesso erroneamente anche l'autolisi quella lì che ho fatto io il video denominata da qualcuno perché non la fanno in molti in italia viene chiamata idrolisi ma l'idrolisi è una cosa completamente differente l'idrolisi non la fa l'uomo o giorgio proprio di te stavo parlando stavo aspettando a te allora la cosa importante che dovete capire che l'autolisi viene fatta dall'essere umano l'idrolisi non la può fare cioè proprio tecnicamente l'idrolisi è una cosa che fanno gli enzimici quando fanno la scissione di una molecola d'acqua da dal resto delle delle particelle quindi ogni volta che voi impastate avviene l'idrolisi chi dice che l'idrolisi è un qualcosa è un modo per dire una sorta di autolisi con più percentuale di acqua quindi viene chiamato idrolisi ma è un errore perché l'idrolisi non la fa l'uomo l'idrolisi la fa l'impasto autonomamente gli enzimi dell'impasto scendono le molecole di acqua e fanno l'idrolisi ciao non sia liberto libero scusate no che cos'è no lascio solo con un pannaco ciao cecilia allora rosa ciao debbi ma lo metto il numero il numero diretta di scrivi mando un messaggio ad angelo ok libero filippo spiega una volta come aumentare l'idratazione per fare il pane con bastrice monovelocità è una parola filippo monovelocità allora l'impasto monovelocità puoi arrivare fino a un certo punto è questo poi a seconda della farina che utilizzi perché se tu hai una farina debole è difficile che poi riesci ad arrivare a un'idratazione alta oppure monovelocità se vuoi arricchire un pochetto di acqua senza farlo slegare devi fare o acqua freddissima in modo che tiene durante la lavorazione lingua e che cosa cos'è non ho capito scusami quindi non è facile fare maledio ciao enzo ciao enzo il caro enzo palmisciano è sempre un piacere averti con un nuovo enzo michele cosetta pronta perfetto giampiro giuseppe cosetta non ho capito lingua e che cosa ciò che ho detto a mia figlia che lingua era in napoletano perché sta stirando volete vedere come sta stirando gli ho detto no non lo stirare il maglioncino mettici un panno sopra altrimenti si infiltrisce oggi non partecipa alla diretta stira ma vediamo per voi ragazzi luciano ciao luciano sandra cosetta allora il lato positivo di queste volentene è che la cheesecake che ho fatto e si è arrivato questa cheesecake stai proprio facendo come se ti verrà la nausea sandra ciò che è bella sandra ciò che è bella luca pink floyd in sottolito vabbè io sono un estimatore proprio come si dice un pazzo dei pink floyd quindi alla fine mi rilassano moltissimo allora alfonso ho chiuso l'impasto dopo aver fatto una biga con 500 grammi 3 grammi ho messo 800 grammi nella biga hai messo il sale no l'hai chiusa ho messo altri 800 grammi no non ho capito se tu hai fatto l'impasto o hai fatto la biga allora ho chiuso l'impasto stantino dopo aver fatto una biga con 500 grammi è lievito ho messo altri 800 grammi oh ok va bene va bene va bene va bene alfonso daniele di angelo allora giorgio se ci sei batti un colpo per favore ciao antonio annunzia anche a me interessava questa cosa di come poter aumentare l'idratazione ma avendo l'impastrice una sola velocità è difficile si inunzia è difficile con una sola velocità ma se tu la incorpori lentamente utilizza acqua fredda perché altrimenti si surriscalda troppo l'impasto e utilizza una farina più forte quindi puoi aumentare l'idratazione anche se ragazzi pure io ho fatto se avete visto nel gruppo la foto della ciabatta che ho fatto ieri quella è un'idratazione un 85% ma l'ho fatto più che altro per sfizio non perché sia una cosa valida o meno ve l'ho fatta vedere giusto per sfizio poi faccio un breve ok Giorgio c'è vi faccio un breve filmato un breve video ve lo metto sul canale era giusto una cosa per sfizio ma arrivare all'85% di idratazione credetemi non serve a niente se voi vi fermate al 75% è già più che sufficiente a meno che non dovete fare qualcosa in teglia come ad esempio se parlavamo di pane se invece dovete fare qualcosa in teglia come ad esempio la romana non lo so tutte le altre pizze che voi fate in teglia anche arrivare all'80-85% va bene tranquillamente ma non pensate che sia una cosa che dia l'eccellenza ok perché la troppa idratazione può anche appesantire se parliamo di pane quindi alla fine poi anziché averne un beneficio sulla lievitazione sia il contrario del beneficio quindi alla fine un disastro e arrivare al 75% ci vuole arrivare Filippo basta che utilizzi una farina più forte e ci arrivi tranquillamente al 75% se tu fai 70% Manitoba e 30% di farina zero anche normale quella che trovi ovunque ti posso garantire che arrivi tranquillamente al 75% grazie Lucia allora stavamo dicendo Giorgio Giorgio ha detto Rindon il fatto dell'autolisi e idrolesi lo ridico per non so se arriva anche se ti puoi vederla differita non è un problema però lo voglio ridire prima che passiamo al ripieno per le sfogliatelle allora l'autolisi tecnicamente la fa l'essere umano l'idrolisi tecnicamente non la fa l'uomo la fanno gli enzini durante la fase di impasto durante la fase di lievitazione questa è la differenza tecnica che poi qualcuno chiama idrolisi una forma di autolisi alla francese o almeno per quanto dicono alla francese perché c'è pure un po' di disaccordo su questa cosa quindi con un po' più di idratazione tipo il polish senza lievito però quello che ho fatto io proprio nel video non viene condivisa a livello ideologico da tanti altri panificatori pizzacoli e quant'altro prossimamente faremo pure il video dell'autolisi la classica con il 55% di idratazione così evitiamo poi di fare un po' di confusione perché sono tutti sistemi di impastamento che però tante volte possono confondere le idee degli operatori quindi ecco perché cercherò di semplificare ancora ulteriormente le spiegazioni in modo da dire l'essenziale perché quando poi si entra nei dettagli si inizia a fare un po' di confusione dice ma che sta dicendo cioè che cosa mi sono perso dove stiamo andando allora per evitare queste cose a voi che panificate a caso in pizzeria e quant'altro meglio che sappiate le cose più importanti i fondamenti della cosa poi i dettagli vi potete sempre informare oppure mi chiedete qualche dettaglio in più ma sempre sotto una forma più privata e quant'altro si Nunzia l'ho provato è favolosa tu provala cioè non è una cosa che ti devo dire io cioè io le farine del mulino scoppezzuole le ho utilizzate quasi tutte quante cioè forse non avrò usata la verde quella là che abbiamo regalato a Valentino perché è prettamente per panificazione però le altre la manitoba la forte la reginella blu la reginella rossa quella per biscotti la semola l'integrale le ho usate quasi tutte quante e comunque alla fine riesco sempre ad avere delle cose buone ottime non buone ottime ho detto faccio sempre l'esempio dell'oro dirpine perché è un prodotto più recente abbiamo fatto una biglia 24 ore con 5 giorni poi di lievitazione sotto forma di panetto e dopo quindi in totale 6 giorni la biglia cioè il panetto era ancora stabile cioè non si era spostato cioè era bello lievitato ma non se n'era sceso quindi questo significa che il prodotto effettivamente è valido stiamo parlando di una farina di tipo 0 che comunque alla fine ti risolve un grande problema a livello di pizzeria a livello perché se tu lo utilizzi a casa è un conto utilizzarlo in una pizzeria però fare meno spreco perché ogni volta che si collassa un panetto c'è chi non riesce a recuperarlo quindi alla fine che cosa succede o si butta l'impasto o poi se ne deve fare tutto pane o si fanno tutte focacce però alla fine se tutto questo pane e tutte queste focacce non vengono vendute o mangiate e comunque alla fine è buttato ciao Gianpaolo Damiano ciao Salvatore allora leggiamo un poco di domande da sopra si è starbucks la tazza madonna mi ragazzi attenti a tutti i dettagli mamma come hai fatto a vederla la tazza starbucks da questo lato che è bianca da quest'altra parte sta lo sterna starbucks ma c'è incredibile hai vista sotto hai visto la g sotto ho capito si è della starbucks sì starbucks london allora giorgio spero sia chiara questa cosa così non dobbiamo più fare poi però ragazzi quelle che fanno parte del gruppo quando vi metto delle cose leggetevele perché poi avete anche io tante volte non le metto le cose perché lo so che per voi è più semplice che io ve la spiego una cosa che anziché voi la dovete studiare però se avete poi riferimento ogni tanto ci date un occhiato vi salvate la foto in modo che se volete ce l'avete lei ciao Daniele ottimo sfondo musicale grazie Lucina allora sto per affrontare la ciscale salvatore tu sei un pazzo ti fai venire di abbe tu tutta sta ciscale che mangi Daniele abbiamo salutato Manuele ciao Manuele Francesco buonasera chef è un piacere questo momento si può preoccupare misurare la temperatura per la stanza per il forno e tutto poi un video usate con pistola gialla allora la pistola laser quella è per misurare direttamente gli alimenti senza toccarli quindi molto pratica mentre per l'ambiente puoi utilizzare tranquillamente un termometro di quelli là che si appendono vicino al muro io quello non ti serve niente di complicato il laser ce l'ho perché è molto più reattivo ecco non mi veniva il termine mentre se tu metti la sonda nell'alimento devi aspettare che poi ti legge la temperatura il laser è un poco più reattivo anche se però con la sonda quella che va all'interno dell'impasto se tu vuoi impastare e vuoi misurare la temperatura ti serve una sonda che va all'interno dell'impasto perché il laser ti misura all'esterno non all'interno perfetto Giorgio mi fa piacere allora vediamo un po' perfetto abbiamo risposto all'idrolisa viene negli alambicchi perfetto quindi l'idrolisa viene all'idrolisa perfetto unse la mani dopo la scoppettola si abbiamo risposto una bica all'idrolisa si può chiamare sempre biga si importante che non ci metti il lievito la puoi chiamare biga cioè non ci metti il sale la puoi chiamare biga no è lievito se tu fai 55% di idratazione la puoi chiamare biga come se fosse un autolisi con il lievito quindi diventa una biga non è più autolisi ma è una biga però poi ti devi ricordare che quando vai a chiudere perché non si preferisce quelle con l'idratazione più alta perché la biga essendo un lievito dovrebbe essere in teoria duro perché se il lievito è duro l'impasto è sicuro se tu fai un impasto una biga con il 55% potresti avere una biga più debole mentre al 45% è una biga più forte questo perciò non si 45-50 è quello che si fa la biga poi tu vuoi fare 55 va bene uguale sempre una biga non è che la possiamo chiamare in un altro modo è sempre e comunque una biga allora Giorgio ok Salvatore scusami forse l'ha già detto cosa è ve l'autolisi quando è necessario per dare estensibilità all'impasto se tu hai un impasto tenace cordoso magari stai utilizzando una farina troppo troppo ne so che ha della tenacia proprio e la vedi che è forte perché non pensate che tutte le farine sono uguali cambiano a seconda della provenienza quindi quando vi raccorgete che questa farina è troppo cordosa troppo tenace l'autolisi serve a dare proprio estensibilità la fa rilassare allora chi altro c'è Damiano presento ok c'è l'impasto fino finito più 30 big 30% per la doppia durante il riposo in frigo 24 ore se no la doppia aspetta che lo faccio poi fuori dal frigo esatto perfetto italy lea ciao lea carlo ciao carlo eh sei un designer designer renzo non lo so eh però non hai visto il logo sotto alla tazza vincenzo ciao vincenzo stefano ok stefano c'è damiano domanda la direzione in forno spento luce accesa è valida non sai fa niente non sai fa niente allora nel forno se tu in casa hai per esempio 20 gradi nel forno spento pure con la luce accesa ma quando è che tu quella luce accesa fa arrivare anche perché quella luce non si riscalda quindi non è una lampadina di quei forni vecchi e c'era proprio la lampadina con il guscio a tartaruga sopra allora dice quello riscalda queste lampadine qua manco se metti la mano vicina sono sempre freddi poi nel momento stesso in cui tu apri e metti il pezzo dentro a levitare hai raffreddato nuovamente il forno è ritornato come l'ambiente della stanza quindi consumi solo la corrente ti conviene più mettere una stufetta in un ambiente che ti regola i 28 gradi 26 gradi 30 gradi quello che vuoi che la lampadina del forno è solo una viceria che non serve da niente Silvio anche perché per esempio io quando faccio le cotture se ho bisogno del forno a 200 gradi io non è che lo preriscaldo a 200 gradi io lo preriscaldo a 250 perché nel momento in cui io apro già ho perso i primi 30 gradi 30-35 gradi solo per aprire e richiudere per 30-35 gradi quindi pensa un po' quanto calore possa dare quella lampadina e che cosa ti può servire allora Silvio anche appena poi mi dici se il pietano del provincio c'è il pietano sì c'è Silvio allora Silvio se ti aggiungi al gruppo whatsapp già te l'avevo detto possiamo chiedere a chi già l'ha avuto la lista perché io l'ho messa la posso anche mettere pure io non è un problema però sta nel gruppo whatsapp la lista di tutti i distributori della farina scoppettuolo sul territorio nazionale ed estero a limite diciamo a Salvatore dopo che ti sei iscritto se la metto oppure la metto io tranquillamente dico Salvatore perché Salvatore è il segretario quindi alla fine a lui tutti questi incarichi un po' fastidiosi Matteo ciao buonasera c'è una ricetta per fare lievito di birra in casa in questo video introvabile grazie lievito di birra in casa non ti serve chi era Matteo già abbiamo detto puoi portare avanti una birra anche con un grammo di lievito di birra altrimenti fai lievitare birra e farina fai fermentare birra e farina avviene l'attivazione e poi te la rinfreschi come un polish dopo 24 ore si dovrebbe attivare ma anche di meno molto dipende dalla temperatura alla quale la tieni se la tieni per esempio a 27-28 gradi in 6-7 ore parte la lievitazione quindi fai farina e birra e poi da quello là che ne viene fuori man mano lo rinfreschi con un'altra farina ciao Peppe Ottaviano ciao Ottaviano Giorgio sei chiarissimo che ho già visto la foto perfetto Angelo c'era una domanda di Giampiero alle 17.09 e non l'ho vista allora se Giampiero mi può fare la domanda di nuovo perché non ci ho fatto caso perdonatemi ragazzi a volte vi vedo la chat va su e non la vedo allora Valerio premette che sono nuovo qui sul canale una pizzeria a taglio prima di chiudere per colpa della covid mi è rimasto un impasto in frigo per 13 giorni almeno 2 gradi portate a casa cotto perfettamente hai fatto una bella cosa Valerio Giordi ha usato lì si è realizzato all'operatore di una cosa che si è assolutamente nell'impastare perfetto Giorgio sei un grande ciao Andrea Max ciao a tutti non ti preoccupare cosa bella ciao Angelo io per l'impastare il panno metto il 70% di acqua il 55 per fare la tris sono circa 380 di acqua sbaglio no no per chilo di farina non solo 380 grammi di acqua se tu fai un chilo di farina il 55% sono 550 grammi per arrivare poi al 70% metti un altro 15% quindi un altro di 150 grammi come fai a trovarti 380 forse perché fai mezzo chilo e comunque non ti trovo che dovrebbe essere un totale di 350 in totale allora per un chilo di farina 55% significa che tu un chilo di farina utilizzi 550 grammi d'acqua questa fa l'autolisi poi per arrivare al 70% ci devi mettere un altro 25% quindi altri 250 scusa in totale sono 700 grammi di acqua ok rosa ciao roberto luca ciao anzi mi consiglio un buon forno di utilizzare in casa per pane e pizza allora luca penso che per pane e pizza forno in casa ti può aiutare più rocco rocco se puoi consigliare a luca il fornetto che state acquistando mi faresti una gentilezza anche chi ha giorgio mi sembra che lo sta prendendo quindi c'è proprio un gruppo whatsapp che hanno fatto rocco per gestire questa cosa dell'acquisto del forno mi sembra f1 gian palma se l'autoresi va fatta da subito come faccio a sapere prima se l'impasto è troppo tenace è la farina che te lo dice non è l'impasto è la farina sulla scheda tecnica della farina perché tu quando ti trovi a impastare con farine che non conosci magari tu vedi che l'impasto è tenace quindi dici che è successo perché questo questa è una cosa che è stata scoperta e quindi poi rapportata però oltre alla tenacità l'autoresi dà anche dei profumi differenti dà anche un'alveolatura più grossa non è che fa solo da solo l'estensibilità il fatto primario è l'estensibilità però comunque dà più alveolatura cioè gli alveoli sono più grandi il pane più profumato la pizza nel caso della pizza quindi non è solo l'estensibilità Silvio è già nel gruppo perfetto allora ti mando dopo la lista Francesco a bagnale io domani devo iniziare per la prima volta la preparazione del levito madre secondo me difficile poi c'è una spiegazione dopo scendo come la garza la garza ok ciao Valentina come va la panificazione ciao aiub debbi ti chiede se conoscevi ciò che pensavo dell'impastatrice eliani ah ok perfetto grazie debbi allora l'impastatrice eliani e famag allora io penso che l'impastatrice oggi siano tutte quante a un buon livello quindi poco importa chi la fa penso che sia molto soprattutto a livello non professionale chi compra una macchina molto professionale perché vuole e deve durare nel tempo quindi si preferisce una macchina molto più professionale perché ha delle prestazioni differenti però a livello di una pizzeria piccola una qualsiasi va bene tanto raggiunge comunque l'obiettivo desiderato Paolo Fiore come mi posso iscrivere nel gruppo Whatsapp allora Paolo ti metto il numero qua in chat 3515421736 c'è il numero nella chat quindi mi mandi un messaggio di si ciao sono Paolo da dove ti trovi e io ti aggiungo al gruppo Ciro salve ci potrebbe avere il numero Whatsapp si l'ho appena messa nel gruppo Ciro Domenico ciao Domenico si dopo basta scrivere in chat perfetto io facevo il 55% dell'acqua no allora Rosa Rosa Delia quando tu parli di 55% di idratazione parli sempre del rapporto acqua-farina ok quindi tu devi fare il 55% di acqua sul peso della farina della farina sempre per arrivare poi al 70% devi comunque calcolare la percentuale che ti mancava già dal 55% per arrivare al 70% ma sempre sul peso della farina non sul peso dell'acqua ok allora fermatevi un attimino con le domande per favore allora l'ultima domanda che leggo è quella di Stefano Onofrio ok quindi non mandate più domande perché vi voglio dare la ricetta delle sfogliatelle se no poi non ve la do che si fa tardi allora per il forno metto il termometro a seconda a sonda all'interno accende per 10 secondi e poi spegne in maniera così 28 gradi e non è sempre così non è sempre così non è sempre così Valerio ok Giorgio ci dice forno F1 134 perfetto a segno il forno di casa la pizza metano dovrebbe avere un'altra direzione tipo 70% no io lo faccio 60-65 e viene bene uguale è una cosa tua arrivare al 70 cioè questo 70% che è diventato tanto di moda oggi è una cosa che fino a qualche anno fa manco esisteva nella pizzeria tutti quanti imbassavano intorno al 60-65 qualcuno arrivava al 67 ma solo per un fatto di velocizzare perché tu la pizza è molto più estensibile quindi la tocchi e si apre solo in quei casi ma gli altri operatori assolutamente no non se ho fatto una biga ieri per fare il pane alle patate se posso fare anche l'autolisi e poi chiudere l'impasto sì non se lo puoi fare però tu devi miscelare tutte e due le cose anche se se tu fai la biga non è che poi se fai tutta biga e poi la unisci a tutta autolisi comunque ti consiglio di fare un impasto solo oppure se vuoi utilizzare la biga come agente lievitante allora fai l'autolisi però sì li puoi comunque miscelare perché già abbiamo fatto l'altra volta abbiamo spiegato come abbinare l'autolisi alla biga e al polish però io ti consiglio di fare l'uno o l'altro se tu decidi di fare l'autolisi e poi ci metti per esempio un 20-30% di biga lo fai solo per far lievitare l'autolisi che hai fatto se tu poi invece vuoi fare tutto insieme 50-50 meglio ancora alla fine stai sempre a un 50% di biga e un 50% di autolisi allora mettete qualche like per favore se non vi scorciate nel frattempo siete 78 e ce ne sono 51 se no non vi do la ricetta delle sfogliatelle Valerio Silvi posso iscrivermi sì Silvi come non ti puoi iscrivere basta mi un messaggio dici Valerio sono ciao sono Valerio ti scrivo da e io ti aggiungo ok Valentina mi fa piacere va tutto bene Stefano all'orange sul chilo di farina che percentuale di farina di riso devo considerare posso fare l'autolisi con il veneto riso e grano terreno insieme sì però non farina di riso perché che devi fare la schioccarella come come si chiama la pinza romana perché utilizzare la farina di riso per Luigi sefsa ciao per Luigi allora l'ultima domanda che anzi l'ultimo rigo della chat che abbiamo letto è quello di per Luigi un amico nostro nostro collaboratore oggi ha un negozio di pasta fresca allora ricetta delle sfogliatelle per chi l'aveva chiesta questo però non è per l'esterno ma per l'interno quello che va all'interno della sfogliatelle Giorgio fai mettere like se no non vi do la ricetta allora ci siete carte e penna lo so che ce l'avete poi nella differita però risparmiate o se no vi segnate il minuto fate conto dal minuto 35 chiudi dal minuto 35 avete la ricetta allora per un litro di acqua abbiamo 350 grammi di semola e 20 grammi di sale questo però è il meno il più lo facciamo questo è solo per cuocere la semola quindi acqua bollente si mette il sale dentro un litro d'acqua e si mette dentro la semola a pioggia con una frusta dall'inizio e poi con un cucchiaio di legno perché diventa tutto un mattone cioè diventa proprio tutto un blocco si cuoce per bene la semola si cerca di farla asciugare quanto più è possibile sul fuoco senza farle attaccare al fondo logicamente senza farla bruciare ok poi si stende su una teglia qualsiasi e si lascia raffreddare come vengono aggiunti poi gli altri ingredienti allora per ogni chilogrammo di semola cotta che cosa significa che questi impasti che voi avete ottenuto tra un litro di acqua e 350 grammi di semola non avete un chilo avete un chilo e tre perché diciamo che 50 grammi di acqua sono evaporati quindi vi rimarranno un chilo e tre di impasto di semola cotta ok capite bene questa cosa per ogni chilo di questa massa cotta vi servono 800 grammi di ricotta buona di buona buona qualità la quale soprattutto deve essere fresca cioè fresca 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 non significa che comprate quella là del supermercato che forse ce l'avranno in quelle vaschette da una settimana 10 giorni 15 giorni ricotta fresca preferibilmente di buona qualità la si mette a colare in un colapasta in un colino in un canovaccio appoggiato in un contenitore per una notte in frigo ok quindi per ogni chilo di semola si aggiunge 800 grammi di ricotta quindi supponiamo che voi da un litro d'acqua e 350 grammi di semola avete un chilo e tre di impasto sono in totale un chilo e zero 40 di ricotta per un litro d'acqua e 350 grammi di semola a questo poi si aggiunge 300 grammi di zucchero sull'impasto totale significa che voi una volta che avete messo la semola e la ricotta insieme avrete un impasto formato da ricotta e semola per ogni chilo di questo impasto dovete aggiungere 300 grammi di zucchero che cosa significa che voi dall'unione di semola e ricotta avrete circa 2 chili e 200 di impasto a questo vanno aggiunti quindi 300 grammi per chilo sono 600 più su 200 grammi sono altri 60 grammi e in totale sono 660 grammi chiaro? ok poi per ogni chilogrammo di semola cotta ci sono due uova non per ogni chilo di impasto le uova vanno calcolate sulla semola non sull'impasto formato da ricotta e semola quindi voi avete un chilo e tre di impasto di semola cotta quindi vi servono circa tre uova non esagerate con le uova perché altrimenti poi quando vanno in cottura il ripieno dentro si gonfia e vi spacca la sfogliatella inoltre abbiamo sempre sul peso della della semola 100 grammi di canditi e poi abbiamo essenza di arancia cannella vaniglia e limone questo qua è un po' a dosaggio quindi ci potete grattugiare la buccia di limone la buccia di un'arancia un po' di polvere di cannella oppure chi ha l'altra polvere c'è pure l'essenza di cannella se non la trovate in polvere e quant'altro e la vaniglia come procediamo abbiamo cotto la semola l'abbiamo fatta raffreddare la mettiamo in planetaria con il gancio o la foglia io vi consiglio la foglia vedete che la semola all'inizio è dura si deve proprio rompere con la foglia quindi la lasciate là a lavorare e quella lavora 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 fino a che non diventi non una crema perché non diventerà mai una crema ma deve essere tutta bella stemperata cioè non ci devono essere grumi grossi e quant'altro deve essere molto omogenea a questo punto si inizia ad aggiungere la ricotta un po' che alla volta aggiungete la ricotta e la fate incorporare man mano seguitevi bene questi passaggi perché sennò poi fate i mappazzoni ok fate delle masse bruttissime e quindi poi avrete al palato non avrete più una crema ma avrete il mappazzone con dei grumi grossi di semola che fanno schifo anche da da mangiare dopo di questo una volta che si è assorbito tutto tutta la ricotta con la semola si aggiunge lo zucchero si lascia lavorare oppure per facilitare il lavoro fate semola e zucchero e poi dopo aggiungete la ricotta forse lo zucchero vi da un po' di una mano a stemperare questa sema dopo di che si aggiungono le uova che abbiamo calcolato in precedenza per il nostro impasto e nient'altro che gli aromi li abbiamo messi i canditi già ci stanno e quindi avete la vostra massa si prendono i tappi delle sfogliatelle perché io a casa non ho perché non posso uscire quindi sicuramente non mi metto a fare la sfoglia per le sfogliatelle si vendono i tappi sulgelati si vendono per gli operatori ma da qualche buon da buon fornitore i negozi sulgelati e quant'altro dovrebbe avere quelli là che vendono pure i cornetti sulgelati tutte queste cose qua dovrebbe avere pure questi tappi per le sfogliatelle si prende il tappo si lascia si chiama tappo perché sembra proprio un tappo perché alla fine è una girella di pasta sfoglia sottilissima proprio sottile 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 quindi il tappo poi viene riempito si prende con le mani un tè distrutto si allarga questo tappo fino a farne un cono non troppo grande giusto che ci vai si mette il ripieno si chiude e si mettono a cuocere la cottura è di 20 minuti a 200 gradi semola marieterese sa bene non il semolino quello fino semola rimacinata non semolino semola rimacinata il semolino è quello proprio fine fine niente lucia devi utilizzare lo strutto perché questa è proprio una prerogativa della sfogliatella altrimenti burro il grasso che elimina se non è nemmeno il burro allora usi la margarina però il risultato poi è differente perché l'originalità del piatto sta anche in quello che viene usato lo strutto per fare questo lavoro un attimo solo raga ecco qua se non stiamo senza musica l'abbiamo rimesso tanto non mi stanco allora ritorniamo alle domande abbiamo chi c'era allora questa abbiamo risposto questa abbiamo risposto Valentina abbiamo risposto perfetto Valentina mi fa veramente molto piacere se un messaggio mi chiamo da dove sei perfetto grazie Deborah dovete mettere ancora qualche like se no vi castigo ciao tardigrado Giorgio perfetto grazie 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 buonasera maestri buonasera a tutti sono appena collegato volevo dirle che ieri sera ho iniziato a preparare il lievito madre 100 grammi 50 grammi di acqua e un grammo di lievito di birra e non stai facendo il lievito madre grey con il lievito di birra non fai il lievito madre fai una biga ma non è il lievito madre ok quando tu parli di lievito di birra non stai facendo il lievito madre stai facendo qualche altra cosa vedi là è salita a galla si prendere un attimo ora vi faccio vedere il mio lievito madre che è pronto questo qua oggi è pronto perfetto che ora c'è scritto sopra l'ultimo perfetto sono si è pronto questo qua dopo lo rimpreschiamo e lo togliamo per attimo conserva questa foglia di carta un attimo che vi faccio vedere il mio lievito madre ciappina allora questo qua che mo si mantiene a galla e poi si aprirà questo fino a un'ora fa era sul fondo adesso è a galla questo significa che il mio lievito è rigenerato quello là disidratato che avevo polverizzato quattro mesi fa cinque mesi fa quando abbiamo fatto il calco non mi ricordo mettilo a posto per favore e adesso è pronto per essere riutilizzato quindi da domani lo tolgo dall'acqua e lo inizio a rinfrescare normalmente poi vi faccio vedere settimana prossima come fare il lievito madre polverizzato quello vostro però non quello che comprate al supermercato quello che comprate al supermercato con la dicitura lievito madre di lievito madre dentro c'è solo la polvere ma come forza lievitante non c'è niente perché quello che fa lievitare il vostro impasto con quella soluzione è il lievito di birra e altre forme di lieviti sicuramente non è il lievito madre che vi fa a fare quell'effetto allora chi c'era qua stiamo indietro perfetto questo abbiamo risposto a grey per quanto riguarda la biga allora grey stava dicendo tu non stai facendo un lievito madre stai facendo una biga quindi te lo porti avanti come se fosse un lievito madre però non confonderti mai con il fatto di chiamarlo lievito madre lievito madre è senza aggiunta di nessun agente lievitante i lieviti si formano da soli perché sono presenti nell'area sono presenti dappertutto quindi quelle che poi entrano nell'impasto iniziano a mangiare e ad attivare la fermentazione sono naturali Alessandra c'è l'alice uso farina buona forte ad esempio 300 serve lo stesso di quella tecnica dell'alcolisi l'alcolisi tu la puoi utilizzare sempre ti serve ad avere come già spiegato prima oltre all'estensibilità ma anche profumi al violatura più grossa ora tra 48 lo rimpresco con la pasta che non si usa cosa bisogna fare buttare perché se no che si rimpresca solo 100 grammi per il giusto sì quello che non ti serve o lo impasti e quindi ne fai pure mezzo chilo di pane e devi di buttarlo e quindi poi una parte te la conservi per portarla avanti l'altra parte la metti in un poco di farina la fai lievitare e ci fai un pezzetto di pane da consumare in casa se non vuoi buttare altrimenti la devi buttare Stefano per la croccantezza il malto Stefano il malto malto di astiatico Giamila buonasera ciao Giamila io la vado a prendere da Gerola buona che cosa ah la ricotta ok semola o semolina abbiamo risposto Lucia per pane sempre semola Maria Teresa la semolina si usa per fare qualche dolce si usa per fare qualche altra cosa però per anche no quella è polenta si usa per altre preparazioni però per la panificazione si usa la semola rimacinata il semolino è troppo fine come concetto burro viene assorbito dalla pasta anche i tappi si possono fare a caso le matterelle si Roberto li puoi fare però per tirare una deve essere sottilissima ed elastica tirare la sfoglia per le sfogliatelle non è complicato ma non è nemmeno tanto semplice se avete una macchina per la pasta forse è meglio perché riuscite a fare un rotolo più piccolino però alla fine la riuscite a tirare più uniformemente perché tirarla con il matterello ci vuole l'abilità di un professionista non è semplice farlo a casa non è impossibile ma non è semplice ma non sto stendendo la macchina bene perfetto Lucia brava perfetto brava brava se la fai più lunga è meglio ancora fare il tappo più grande con la stessa cosa potete fare le code di aragosto cioè invece il tappo della sfogliatella anziché metterci dentro il ripieno della sfogliatella se dentro ci sparate un po' di pasta asciutto e le mettete in cottura la pasta asciutto che cosa fa cresce e quindi si allarga quindi vi viene proprio la forma della coda dell'aragosto perciò si chiama la coda dell'aragosto poi quelle là vengono farcite con crema a chandillè che è una cosa spettacolare che è quella che mi fa impazzire la domenica dopo pranzo quindi addio di età non ricordo come si fa però no no allora è semplice grace allora per fare la biga tu hai bisogno facciamo conto che tu la vuoi iniziare stasera ok allora tu metti 100 grammi di farina 1 grammo di lievito di birra e 50 grammi di acqua fa la 50 grammi di farina che va bene qua la lasci tutta la notte dopo 24 ore che cosa fai? la rinfreschi quindi a quella massa che tu hai formata da farina acqua e lievito che aggiungi la stessa quantità di lievito la metà la stessa quantità di farina la metà dell'acqua e non aggiungi più lievito quello comunque cresce e si è già raddoppiato poi di questa massa tu una parte la prendi per panificare per fare la pizza quello che vuoi l'altra parte sempre 100 grammi ti consiglio di tenere in frigo la utilizzi per gli impasti successivi ok no la pasta fila è un'altra cosa Marco la pasta fila è tutta un'altra cosa non ci azzecca niente con la pasta delle sfogliatelle allora Vincenzo ho fatto un polish lo posso far maturare per il 18 settembre e lo metto in frigo dipende da quanti gradi hai in casa Vincenzo se hai 16-18 gradi lo puoi lasciare fuori tranquillamente altrimenti lo puoi mettere in frigo e poi dipende molto dalla quantità di lievito che tu metti che se metti 3 grammi lievito allora va bene se vai ora il polish è un po' più complicato perché in base alla quantità di lievito che tu metti dentro per farlo partire calcola quindi se tu abbassi poi devi vedere che 3 grammi si va bene va bene si la ricettina per i tappi si non è un problema il problema è che ti dovrei far vedere e a casa mia non ho niente per fare un lavoro del genere quello è il problema ti potrebbe più aiutare Lucia che sta in portogallo e pensa che dice che lei già c'ha la macchina perché io la macchina non ce l'ho ecco qua allora Maria Teresa se ti metti in contatto con Lucia sarebbe l'Ukulliana nella chat lei ti può aiutare ti può far vedere anche magari con una videochiamata come farlo perché io a casa non mi cemento proprio a fare una cosa perché non ho niente per farla non ho il matterello che ho io manco va bene perché è quello sottile giusto serve comunque un matterello più grande se lo vuoi stendere così brava Lucia mi fai distinto con una grande gentilezza perché io a casa non mi metto a fare un lavoro del genere anche perché poi non saprei che cosa farne cioè calcolo che io sto a Napoli se voglio la sfogliatella cioè vado qua e me la prendo non manco ci penso e le devo fare che le devo fare una produzione sì ma altrimenti non mi metto roba ma soprattutto a casa a me non mi piace proprio fare le cose perché non avendo i miei attrezzi mi stressa solo allora stasera faccio per quanti giorni ho visto grazie comunque ho visto la grazia stasera per quanti giorni che cosa Grey tu la puoi tenere in eterno non è che tu scade la biga se tu la rinfreschi tutti i giorni la puoi tenere in eterno come il lievito madre cioè tanto quella parte una volta che è partita e tu la rinfreschi come se fosse un lievito madre la puoi tenere in eterno però devi avere l'accortenza di rinfrescarla poi tutti i giorni non è che dici ogni due giorni al massimo io sono uno dei contrari ogni due giorni una settimana però ci sta pure chi la tiene in frigo una settimana e poi la porta avanti però vedi sempre come tu puoi gestirla in base alle tue esigenze perché sennò tu butti farina tutti i giorni se tu impasti un qualcosina tutti i giorni va bene salvato salvatore mi sono dimenticato di accendere il timer sta ancora a 60 minuti vabbè però lo vedo sullo schermo stiamo a 55 minuti non ridere salvatore non ridere l'ho pure programmato vedi mi sono dimenticato di accendere sta ancora a 60 allora ora come ora non credo le sfogliatelle si vabbè ho tutti gli amici miei qua intorno che hanno pasticcerie quindi figurate se non trovo le sfogliatelle ma pure allora da noi è molto semplice reperirle anche perché ci sono diversi laboratori che le danno a quelli là che vendono prodotti su gelati quindi non vale nemmeno la pena mettere cioè a farle in casa perché tra quello che è sporco e il tempo che perde poi sono buone cioè non è che dice non sono buono io le prendo questo amico mio che ha la pasticceria quindi figurati al massimo me le posso solo cuocere perché altrimenti non mi metto proprio a pensare di fare le sfogliatelle a casa non esiste settimana prossima qualcuno aveva chiesto le colombe se riesco a reperire tutte le facciamo il lievito dovrebbe essere quasi pronto però voglio vedere domani come risponde se riesco facciamo una colombe non le colombe una colombe quindi devo calibrare poi tutto il procedimento su un chilo di farina maturazione 18 ore a temperatura ambiente frigo temperatura ambiente vincenzo allora se tu hai temperatura ambiente 16-18 gradi con 3 grammi di lievito nel tuo polish va benissimo a 18 ore riesci a far mantenerlo tranquillamente ricordati che il polish è pronto quando tu sale l'impasto e poi al centro devi iniziare quando vedi che al centro inizia a scendere tu c'hai la cupola quando vedi che la cupola si inizia ad abbassare a quel punto significa che il polish è pronto quindi se tu in casa hai 16-18 gradi io ti dico altrimenti lo fai fai conto adesso vai a dormire a mezzanotte a dormire a mezzanotte a mezzanotte lo metti in frigo se hai paura che possa andare oltre ma anche se va oltre non è un problema perché tu domani mattina sai che cosa fai se lei vedete che è andato troppo oltre che magari si è collassata allora che cosa fai ci metti dentro 200 grammi di farina ci aggiungi altri 200 grammi di acqua impasti per bene e quello risale di nuovo quindi non ti stressare una volta che è salito così ti fai pure lo standard per casa tua però penso che a 18 ore ci arrivi tranquillamente oppure se vedi che si è abbassato troppo comunque tu vuoi impastare il pane o quello che vuoi tanto la levitazione parte non stai facendo niente di complicato quindi la levitazione parte tranquillamente allora Marco la milasi la milasi è quando tutti gli zuccheri si sono cioè questa enzima che mangiano 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 zuccheri il lievito di per sé non è che appesantisce allora si consiglia sempre di utilizzare poco lievito negli impasti per allungare il tempo di lievitazione perché quando si allunga il tempo di lievitazione si dà il tempo materiale ai lieviti di scomporre tutti gli zuccheri complessi rendere zuccheri renderli zuccheri semplici e quindi di poterli mangiare se voi mettete tanto lievito comunque cresce l'impasto ma non è finita tutta la fase di scomposizione degli zuccheri quindi che cosa succede voi mangiate la pizza e pensate che la colpa è del lievito ma in realtà la colpa è degli zuccheri che contiene ancora la farina perché non è stata scissa non è stato scisso tutto lo zucchero consumato dai lieviti questa è la differenza perché il lievito a 56 gradi in cottura muore quindi alla fine non è il lievito di per sé che dà il problema quando se io metto 50 grammi di lievito di birra in un panetto di pane non è che mi dà fastidio il lievito quello che mi dà fastidio è che praticamente è cresciuto troppo in fretta io penso che è pronto quindi lo butto in cottura ma in realtà è ancora pesante perché lo zucchero sta ancora tutto quanto la ecco il motivo ok le mie fanno in video la gambe stasera do la recetta faccio fai un video se ci riesci lucia fai un video perché tu hai la macchinetta quindi metti invece di fare la pasta in casa con quello che fai la pasta in casa fai pure le sfogliatelle io la macchinetta non ce l'ho ripeto perché io a casa non vivo a casa mia voi si io a casa mia fino a quando lavoro a casa mia io ci vengo a dormire basta poi non ci sono mai ora sono sempre a casa come tutti quanti voi come tutti noi siamo tutti a casa ma io a casa mia cioè se corna facendo se viene la morte non mi trovo perché veramente non ci sto mai ok grazie penso che la temperatura si è in alto in casa quindi vado a dormire perfetto lucia no ma le tre sono culinato ringrazio sicuramente per la recetta dei fratelli magari anche un po' di spiegazione si ma tranquillamente non ti preoccupare vale Teresa lucia se fanno una sfogliatella meglio del gambrinus no non ti preoccupare tu lo puoi tagliare lo fai in in pezzi capito lucia lo fallo in pezzi fai parte prima parte seconda e lo mandi in modo che poi ogni 5 minuti un video di 5 minuti riesci a mandarlo tranquillamente eh bravo salvador meglio prevenire meglio che curare allora domande ma quello il problema sai qual è lucia quando tu vedi un qualcosa fatto in casa gli altri si meravigliano ma tu puoi essere meglio in casa riesci a fare una cosa del genere normale se stai attrezzato per fare delle cose perché non dovresti riuscirci anche perché sennò gli operatori che lavorano a casa che fanno al laboratorio lo fanno e a casa no è molto semplice la cosa per esempio quando arriverà la pietra la nuova pietra perché ho chiamato a questi qua di amazon e mi hanno detto che mi spediscono un'altra pietra io comunque voglio provare a fare acqua non verrà come in un forno da pizzeria però spiegarvi per esempio anche come stendere la pizza comunque alla fine non è che alla pizzeria al ristorante riesco a farlo e vengo a casa e non so stendere i navizi cioè quella è la cosa sì vincenzo ora te lo do ok ciao domenico donato ciao donato se ne va vincenzo scriviamo pure a vincenzo mettiamo qua in chat il numero di telefono 3515421736 vedi che ce l'ha in chat il numero di telefono Enzo ok a posto mi mandi un messaggio sono vincenzo da e io ti aggiungo al gruppo allora ragazzi domande prima che ce ne andiamo no Grace come ti chiami proprio Grace o come ti chiami così perché capisco che è un nickname almeno ti chiamo per nome non è che i tempi sono lunghi anche perché io sono iscritto al social amazon amazon prime quindi dovrebbe arrivare in tempi brevi se questo anche questa qua è arrivata in tre giorni dalla Germania comunque arrivava questa pietra ok calcolate che sono i tedeschi che mi hanno mandato il libretto per fare la pizza Maria grazie perfetto ok i tedeschi mi hanno mandato insieme al kit pala e pietra pure il libretto per fare la pizza ecco perché io ero ansioso di ricevere questo kit per vedere come poteva essere la pizza fatta dai tedeschi ciao max allora ragazzi vi state preparando per il weekend dove andate di bella ah ma ragazzi di caserta vive alla spezza vent'anni iscritta da manzombrano perfetto si è molto veloce funziona bene no il libretto le istruzioni insieme alla pietra refrattare che ho comprato mi hanno dato la pala una paletta proprio piccolina che serve tipo ventaglio e il libricino lo fuscoletto che ti spiegano come fare una pizza fatta in casa io in verità quando ho comprato la pietra mi sono deciso a comprare la pietra proprio perché in virtù di questo fuscoletto altrimenti non l'avrei comprato è possibile farla a bigo e polish ma con farine più debole come no accorci i tempi di lievitazione si si tranquillamente luigi se hai farine più debole accorci i tempi di lievitazione anziché di farla a 24 ore lo fai a 10 ore a 12 ore 8 ore dipende poi dal tipo di farina che hai quanto lieviti hai e quanto lievito metti nell'impasto la quantità di malto e percentuale aggiunge per il pane ovviamente qual è dall'1 al 2.5 per cento io consiglio sempre una via di mezzo quindi intorno al 2 vedete a te se vado vedete a te secondo me il libretto come è arrivata sta cosa nel cartone non l'ho buttato sta cosa nel cartone perché glielo ridò indietro se non lo so se gliela devo restituire questa acqua rotta perché mi hanno risposto che me ne mandavano un altro quindi però non so che cosa fare poi con questa qua che mi hanno lasciato quindi penso che se o al limite se non se la vengono se non se la prendono come ritiro se qualcuno lo vuole le manca un pezzo fate conto che questa è la pietra ci manca quest'angolo quasi spaccato proprio in quest'angolo quindi la restante parte può essere utilizzata comunque per fare qualcosa a casa chi la vuole se la viene a prendere chi sta nei paraggi anche si fa una passeggiata e magari forse magari riusciamo a fare un po' di collaborazione glielo facciamo Vincenzo salvo ne approfitto e prendo il numero ci andiamo nei prossimi giorni buona serata ok ciao Vincenzo amore lo devi tagliare quella si lo devi tagliare perché altrimenti non se ne viene ragazzoli ci salutiamo e ci vediamo lunedì che dite ho aspetto due minuti ecco le domande perfetto allora io a casa Angela con il colore non sta andando nemmeno faccio pane in casa e tu mi vengono no le olive sono finite non si le olive sono andate sono andate mia figlia con febbre le olive sono andate vai io a tre settimane a casa a tre settimane sono un cantante è passato il tempo lo strafucino sono ex pasticcio e cake designer perfetto allora ci potrai insegnare tante cose Maria Grazia se fai la cake designer magari che ne so possiamo fare delle video chat in collaborazione se ti va eh mi arriva un altro ricettario Beppe però l'altro ricettario che mi arriva ve lo regalo tranquillamente lo posso regalare a chi ne fa richieste che lo regalo il timer non è suonato però il tempo sull'orologio qua che c'ho sullo schermo dice 69 08 adesso sono finite non sia sono finite ma non ne devo andare altro se no mi fa ingrassare mi sono mangiato quanto io quello lì aspetta 4 minuti aspettiamo il timer se c'è Paolo Marco forse ripeto la pizza aspetta qualche suggerimento no veramente Maria Grazia se non c'è se non c'è il tempo che non lo fai uno che uno oltre che tu hai imparato ad andare in bicicletta non è che ti dimentichi anche se passano vent'anni quindi alla fine se ti va veramente la possiamo fare questa cosa possiamo fare un videocorso a parte se vuoi non dovrebbe essere impegnativo ci possiamo organizzare se ti va la cosa altrimenti nessun problema ok 70 minuti Salvatore è un cake mangiaterra perfetto ci vediamo lunedì ragazzi vi auguro un buon weekend anche se so che non potete fare niente sì ce l'ho Nunzia ce l'ho ce l'ho te la mando dopo perché il fine settimana non si fanno dirette e ragazzi vuoi che dite ci posso domani mattina dovrei fare un altro video in inglese quindi poi mi devo dedicare al montaggio e quant'altro se faccio sette giorni a settimana già qualcuno si è lamentato e dice ma che cazzo una ricetta ti avevo chiesto e tu stai tutti i giorni qua a fare dirette ciao rosa d'accordo poi ti mando le foto le foto del pane perfetto fate domande e lasciate i like perfetto salvato buon fine settimana tutto ok dai ragazzi vediamo lunedì sempre alle 17 ok buon weekend a tutti in bocca all'uva a tutti quanti per una presto ritorno un presto ritorno alla normalità vi voglio bene ciao buonasera a tutti